Lei è un bomonte. Sì, 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 sì. 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 Sì. Sì, sì. 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 Grazie. Iscriviti. Vai! Nei! Sì, sì, sì. 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 4, 5 6, 6, 7, 8 6, 7, 8 7, 8 7, 9 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 Noi! 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 4 4 5 5 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 15 16 16 16 17 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.